La sua carriera musicale inizia negli anni 70. La grinta poetica delle sue prime composizioni n'insubrecattura l'attenzione di Nanny Svampa, che le incide e le pubblica per la Durium, e le P.A.L.D. d'Inco-1977. Con Moni Ovadia, talent scout e leader del gruppo Folk Internazionale produce per l'Ariston Records Il Paese dei Bugiardi, 1978, e Coco, 1980, moderne favole venate di humor popolare che prendono forma su sfondi ecologici e sociali in cui spicca la presenza, tra gli altri, di astri nascenti come Mario Arcari e Piero Milesi che lavoreranno poi con Fossati e De Andrè, Franco Parravicini, Gerardo Cardinale, Vincenzo Zitello e Roberto Mazza, nonché delle voci di Antonella Ruggero e Alberto Fortis. Nel frattempo, Magni insegna musica di base nelle scuole elementari e realizza i singoli Dracula Canzone d'Amore nel 1981 e poi Magnetico Tic nel 1983. Il Nada Yoga, la via del suono, lo avvicina alla musica indiana. Canta nel Tempio di Shir di Baba in India e realizza il CD Sai Mama. Negli studi di Daniele Caldarini e Roberto Colombo. Il CD sarà in seguito pubblicato anche in lingua inglese. Sai Motor, con Parravicini vince il premio Kiko Mendes per la canzone ecologica L'Ambrada. Risfoderando la lingua locale, collabora con Imatia Bazzar e riesce a farsi produrre il disco Amami di meno amati di più. 1995 RT Music, da Roberto Colombo. Nel 2004, affiancato dalle chitarre di Franco Parravicini e tre giovani fiati Latrilli Band, ripropone i suoni della Brianza con il CD Shigula con cui si produce in ruvide antiche ballate e, strampalati scioglilingua. Shigula ha vinto il premio Noster Cantastorie Avimercate e il Grammofono d'Argento di Oreno. In questo lavoro Francesco ripropone con nuovi arrangiamenti. Del prediletto Franco Parravicini. Anche alcuni suoi brani storici. 2008-2009 Balada del Balabiott. Anche attraverso i testi manzoniani del Collina completa il quadro cromatico dei suoni dialettali. 11 canzoni. 11 gioielli.